buonasera commissario buonasera signorina mi dica da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia non ci tocca nessuno che avete fatto sti cretini mochese so che di una maglia vai niki vai se vuoi confessare che vuoi vuole sapere solo che ho ucciso il nostro commissario ma tu che cazzo sei come ti permetto di perdere la mia vita è vero la polizia? si si mi hanno fermato mi hanno dato pure un po di pazzate fortunatamente mi hanno fatto male assai insomma ma non cercavano me quello è bello cercavano il killer del peperoncino immagina che cosa si sono inventati il killer del peperoncino l'atto con le chiese tu che puoi pensare là e non c'è qualcosa che vanno per pensare ma non c'è quello che puoi pensare è un virus mentale non fanno altro che ristrarre le persone si inventano le cose più allucinanti e non con quale vila? le riviste? portatele cioè sei venuta a posto tienitene che già è un casino d'armi attendele ci faccio una fotografia con il commissario? e vai dai dai da oggi sono io il commissario? da oggi sono io il commissario? adesso sono io il commissario adesso sono io il commissario ahhhh 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 ahhh ahhhh 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 Adesso sono io, il commissario Grazie per la visione Sei proprio un pezzo di merda Piper, ma sei impazzita? 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 Piper, ma sei impazzita?